Ciao a tutti quanti dal grandissimo Paolo Pasquali, salutatore del blog Miai Cristia TJ, insieme alla Pantea Rosa, è una grandissima Viola, infinita, Viola Valentino, di più che ci ha fatto innamorare con Comprami! Ma l'hai comprata voi? La cassetta l'hai comprata? E chi vogliamo salutare questa sera? Allora, io volevo guardare un po' speciale, dunque, gli amici di Facebook, YouTube, Yuporn, poi, i grupponi di Paolo Pasquali, anni 70, 80, di Cristian TJ, grazie Viola, grazie, 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 Italo, 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 Ciao!